Ciao ragazzi, allora siamo qua, punti. Ciao! Quali sono le feste del percorso di pizza? Io sono emozionatissima, vedo l'Adele e gli altri ragazzi già belli conciati per la festa proprio, terreno molto arduo oggi, fangoso, sarà la dura prova dell'equilibrio, il famoso equilibrio e speriamo che tutto vada bene e soprattutto che si diventa. Mamma, io vado a fare un giro per il percorso! Sì, sono tutti carichi però non è percorso. Dai, il report può che viva più avanti. Gorla, minore, forever! Sta guardando! Dai Ricci, bene, bene! Perché il Titti sta venendo su, è a metà gara! Oggi il terreno è molto difficile, fangoso, i ragazzi fanno fatica, si vede proprio la stanchezza che hanno. Ecco qua uno dei favoriti, che fa fatica piano piano, dai 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 che Mena Mena ce la fa, tranquillamente. Buongiorno ragazzi, non si pedala, siamo qua alla gara di mountain bike che sveggerà fra poco dei giovanissimi a golla minore della Ju Green. Buona fortuna, il tempo è bagnato, il percorso sarà un pochettino singlioso, vediamo chi vincerà. Dai! Piano, piano, attento! Mai dire piano! Mai dire piano! Mena! Vai Ricci, vai Ricci, vai Ricci, vai Ricci! Ma a me ci vuoi! Grazie.